Ciao, se hai cliccato su un video del genere o con titoli similari, come vendicarsi del narcisista, come farsi ripescare dal narcisista, come diventare il pensiero fisso del narcisista e così via, sei sicuramente in una condizione di dissonanza cognitiva, quindi di grande confusione e hai bisogno di aiuto. Anche io tanti anni fa cercavo come una drogata sul web video con titoli del genere, perché volevo a tutti i costi vendicarmi del narcisista o dei narcisisti, volevo a tutti i costi uscire vincitrice da quelle storie che mi avevano visto spremere come un limone e mi avevano visto essere scartata come un pacco puzzolente, come un paio di scarpe vecchie, stracciate, puzzolenti da cambiare ed ero ossessionata dall'idea di vendicarmi, di ricevere giustizia, quella che secondo me era giustizia, e di ricevere un contatto da parte del narcisista in questione, così da potermi finalmente o vendicare o comunque affinché il mio ego venisse in un qualche modo accarezzato. Mi è servito tanto lavoro su me stessa, tanta terapia per capire. erano uno specchietto per le allodole questi video, che in fondo sono più deleteri che altro, perché quello che ti serve davvero è iniziare un percorso terapeutico, chiedere aiuto, uscire da questo stato di confusione e ritornare ad essere lucido, perché nel momento in cui tu torni lucido capisci che questi personaggi, che si chiamano appunto narcisisti, patologici, manipolatori seriali, che sono dei bugiardi patologici, che non hanno empatia, che possono essere potenzialmente molto pericolosi, il grande dono che possiamo fare a noi stessi è quello di allontanarli, di entrare in no contact quando possibile, o di attuare con loro il sasso grigio per esempio, ovvero quella tecnica che ci vede intraprendere un percorso di comunicazione sterile con queste persone, dove le nostre emozioni non devono trapelare e essere utilizzate da questi personaggi per avere rifornimento o comunque per fare leva sulle nostre emozioni e quindi metterci in difficoltà, farci soffrire nuovamente. Cercare di continuare ad avere contatti con queste persone significa ricadere nella loro spirale, ricadere nella tela del ragno e non mettere mai fine a questo enorme dolore che questo tipo di relazioni ti porta. E allora io sono un po' arrabbiata, un po' arrabbiata con questi personaggi che pubblicano video per arrabbattarsi dei click, i famosi clickbite, gli acchiappa like, dove fanno leva sulla vostra confusione, sulla vostra sofferenza cercando di darvi dei messaggi sbagliati, perché non ci si vendica con un narcisista, non si fa il suo gioco, ci si allontana e si chiede aiuto ad un terapeuta e o a un avvocato, sarebbe ancora meglio entrambi quando necessario ed è importante far passare il messaggio che occorre uscire da questo gioco al massacro. Sinceramente io non vorrei mai essere il pensiero ossessivo del mio narcisista, no grazie. Questi sono personaggi pericolosi che dobbiamo tenere lontani, non vi fate manipolare ancora, non vi fate fregare. Chiedete aiuto a terapeuti e avvocati che conoscono la problematica, allontanate i manipolatori e ascoltate e seguite anima, finalmente, lasciando stare l'ego. Dai è tutta. Un bacio grande e alla prossima.